buongiorno gesù è un maestro un rabbì in israele che ha un rapporto tutto speciale con le donne una maniera di relazionarsi a loro che va controcorrente rispetto alle abitudini del tempo ce lo racconta con diversi particolari proprio l'evangelista luca oggi in particolare al capitolo 8 nei versetti dall 1 al 3 dopo il meraviglioso racconto dell'incontro con la peccatrice a casa di simone il fariseo lei che viene perdonata e che si pone dietro i piedi di gesù a indicare la posizione il posto adeguato per la discepola il discepolo ecco che sono proprio un gruppo di donne che cammina sui passi del signore che gira per i villaggi di israele ad annunciare la buona notizia vi sono i dodici e vi sono molte donne che hanno due caratteristiche una di accoglienza e una di dono l'accoglienza della misericordia di dio perché tutte dice luca sono state guarite da spiriti maligni e da malattie in particolare maria maddalena menzionata proprio con un'attenzione particolare liberata da sette demoni questo aspetto di sofferenza manifesta l'interiorità ma anche una esperienza sociale religiosa delle donne segnata da tanto dolore e marginazione e tutto questo allora mostra come se si sono rese disponibili a lasciare operare nella propria vita proprio il signore gesù che ha portato loro salvezza perdono guarigione la donna allora è disponibile all'accoglienza alla ricezione è aperta a custodire un dono che ne viene dato la seconda caratteristica però è il ritorno di questo dono ricevuto nel restituire quello che è possibile lo fanno queste donne accudendo a gesù e ai suoi apostoli con i loro beni simbolo di una cura che tipicamente è femminile ma che si fa particolarmente importante nella relazione di assoluto rispetto della dignità dell'altra che caratterizza gesù il quale non approfitta di quanto esse possono dargli e in una relazione di reciprocità che libera e che responsabilizza gode di quanto gli viene dato e allo stesso tempo non lo pretende cammina così la piccola comitiva di israele dietro i passi del maestro vogliamo sentirci invitati anche noi donne in cammino coloro che si sentono chiamate a stare con lui e per quanto riguardano i uomini con la stessa capacità di avere uno sguardo amorevole di rispetto della dignità straordinaria di coloro che sono un dono meraviglioso per la nostra vita le donne buona giornata